La ristrutturazione dell'ambito sociale numero 6 è un processo importante di innovazione che avvicina sempre più il terzo settore a questo importante modulo della vita politica e sociale del nostro territorio. Tiziano Busca c'è qualcosa che non va, però soprattutto per quanto riguarda la gestione. Ma non va, non lo dicono solo i socialisti, lo dicono le associazioni di volontariato che hanno mandato una nota ai sindaci e ai consiglieri comunali dei comuni che fanno parte del nostro ambito sociale perché il modello che è stato scelto è un modello che li esclude sia dai tavoli di rappresentanza sia dal modello di gestione organizzativa e soprattutto è una tipicità tutta fanese che non risponde ai loro bisogni e per cui la proposta che viene fatta è una proposta di riflessione, non è una proposta ostativa alla necessità di arrivare ad un diverso modello. Quello che noi come socialisti sosteniamo è che questo progetto trovi risposte di confronto all'interno delle istituzioni, il Consiglio Comunale di Fano ma anche degli altri consigli comunali coinvolgendo le associazioni di volontariato le quali hanno titolo pieno, perché questo è previsto dalla legge del terzo settore, a confrontarsi su questi elementi. Ecco, a questo proposito avete rivolto anche un invito, un invito agli stessi consiglieri comunali. Sì, noi abbiamo rivolto questo invito perché quello che doveva essere svolto anni fa secondo un indirizzo del Consiglio Comunale di Fano dall'assessore al welfare non è stato fatto, cioè un dibattito sulla scelta del modello organizzativo e sulla base di quello che doveva essere la struttura che veniva data all'organizzazione dell'ambito sociale. Noi l'anno scorso l'avamo fatto come socialisti per portare un contributo attivo perché ci rendiamo conto che è un tema molto complesso dove nessuno ha la verità in tasca, però questo non è stato sicuramente prestato degno di attenzione da parte dell'assessore dell'amministrazione comunale di Fano e i nodi poi alla fine, come si dice, vengono al pettine perché portare avanti un modello contro le realtà del mondo associativo, la maggioranza delle realtà del mondo associativo, badate bene, sono quelle realtà che sono il capitale sociale dell'impresa sociale che invece, le cooperative, l'impresa sociale sostiene il modello che è stato proposto, perché evidentemente non si rendono conto che questa frattura a livello di realtà associativa di base è molto dannosa, ma soprattutto perché i coloro oggi pensano di aver raggiunto il risultato sperato, cioè quello di andare alla gestione. Quindi no a un organo monocratico, qual è la vostra alternativa? No a un organo monocratico, sia ad una rappresentanza come è nella realtà di Iesi, che è il primo modello che è stato attivato, di valore, sia ad un osservatorio che sia il contrappeso che faccia analisi su quelli che sono i risultati di gestione, quindi un osservatorio interno e non un unico revisore dei conti, il quale non ha sicuramente la competenza di misurare i risultati dei progetti, avrà la competenza di misurare i risultati dei conti e quello che c'è di brutto è che noi la chiamiamo azienda. Un'azienda significa parità nella gestione dei costi e dei ricavi. Quindi questo nel mondo del sociale è di una gravità estrema perché allora se parliamo di azienda, non capendo che cosa portiamo dentro questo mondo di bisogni, dovremmo dire chiudiamo gli ospedali perché costano più di quello che noi abbiamo la possibilità di gestire. Quindi è un tema che non può essere visto soltanto come un fatto ideologico. Nei bisogni, nella salute, nelle necessità delle persone l'ideologia vale poco, vale molto, l'umanità e la risposta di servizio che deve essere garantita. E tutto questo attraverso un patto di cittadinanza? Il patto di cittadinanza è la chiave, è il manifesto in cui tutti ci si riconosce con le regole, i diritti e i doveri per gestire il tema della integrazione, della complessità, dell'inclusione, di tutto ciò che è l'ambito in cui l'elemento centrale è un qualcosa di straordinario, che è l'uomo.